wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi missione finale degli gnomi ragazzi lo sapete ne abbiamo già fatte alcune un set di missione segrete che sono uscite in questa in questa season ringrazio i ragazzi in chat su twitch per avermela fatta notare e dobbiamo se non ricordo male raggiungere esattamente la posizione eccoli qua nel quadrato di 6 come vedete ragazzi siamo proprio qua per farvi capire questa è la allora questa è la casa della foresta questa è l'agenzia vicino alla foresta e qua ci sono gli gnomi ed eccoli ragazzi non dobbiamo fare altro visto che hanno raggiunto una tregua appunto nella loro guerra dobbiamo semplicemente essere contenti e ballare tregua celebrata beh ragazzi io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao